Dopo lo stop a causa della pandemia, la città di Gubbio assisterà di nuovo alla processione del Cristo morto all'imbrunire del venerdì santo, un ritorno doppio perché la sacra rappresentazione da secoli, riferimento religioso e culturale di tutto il popolo gubbino partirà di nuovo dalla ritrovata chiesa di Santa Croce della Foce. Siamo molto entusiasti, abbiamo passato l'ultimo anno proprio con grande gioia perché prima ci siamo riappropriati a luglio della chiesa, chiesa che era chiusa dal 2014, quindi qui ritorniamo dopo circa 7-8 processioni che sono state fatte con partenza da San Domenico. Molti ragazzini non conoscevano per niente questa chiesa, noi in questo periodo quaresimale abbiamo incontrato circa 12-13 gruppi di ragazzi provvedienti sia dalle scuole di qualsiasi età, dalla scuola dell'infanzia, alle elementari, alle medie, alle superiori e quindi sono rimasti estasiati sia del complesso monumentale che invito di nuovo a tutta la cittadinanza di fare un salto a Santa Croce per chi magari in questi ultimi mesi non ci è potuto venire. E poi perché sono rimasti anche estasiati dal rito, quindi gli abbiamo fatto toccare con mano tutti i vari simboli della passione, li abbiamo fatti incappucciare, quindi diciamo noi piano piano siamo sicuri di far ritornare questo luogo al centro ma non solo delle persone della nostra età, anche dei ragazzini perché fa parte dell'anima diciamo di questa città. È una primavera, è un ritorno alla vita, dopo due anni di pandemia veramente è forse un'occasione d'oro che sia proprio la processione del Venerdì Santo a riprendere la vita di Gubbio perché in effetti è una delle espressioni più grandi della religiosità popolare di Gubbio. Quindi è importante, è importante che si riprenda da questa iniziativa che è straordinaria che ci dà l'occasione anche di riprendere da Santa Croce perché ormai da Santa Croce è quasi 6 o 7 anni che la processione non partiva più per una serie di conseguenze legate la chiusura della chiesa e i lavori di ristrutturazione generale e di restauro che sono stati fatti in questi anni. Sicuramente non solo per la confraternita ma anche per tutta la comunità gubbina sarà una forte emozione perché comunque sia per chi frequenta la chiesa o anche chi la frequenta meno Santa Croce è sempre un posto importante durante la settimana santa. Dopo anni difficili sicuramente sarà una bella settimana gratificante. Ora, come diceva il priore tempo fa, è ora di prenderci complimenti per la chiesa e per il ritorno appunto della processione che ripartirà venerdì dalla chiesa. In occasione degli eventi della settimana santa, grazie al contributo del Rotary Club di Gubbio, è stato installato un nuovo impianto di illuminazione per il campanile della chiesa con proiettori a led e materiali di qualità per donare al monumento una luce uniforme e sobria. Noi abbiamo accolto con molti interessi e orgoglio questa opportunità e devo dare un applauso ai volontari della confraternita perché sono stati molto dinamici, entusiasti e noi, anche noi entusiasti e dinamici come loro, però è stata anche questa volta la testimonianza che se nella nostra comunità facciamo squadra fra le varie associazioni il risultato è certo. Quindi siamo veramente orgogliosi di questo. Qual era la necessità per l'illuminazione del campanile? Beh, va detto che andava dato seguito a quello che era stato fatto già al lavoro qui all'interno della chiesa, dall'architetto Raschi e quello che aveva offerto già l'impresa a Monacelli nella complicità dei lavori che è l'illuminazione dal lato fiume. Quindi rimaneva fuori, diciamo, il campanile. Ovviamente noi eravamo già preparati con il vecchio tipologia di illuminazione, ma non era più per la quale e quindi abbiamo deciso di chiedere al Rotary un contributo e loro con molto entusiasmo, come ha detto il Presidente Mauro, ce l'hanno accordato. E quindi noi ne abbiamo approfittato e ci siamo messi subito all'opera per poterlo realizzare. Questo va detto e sottolineo anche le parole che ha detto Pocanzi Mauro, che quando le associazioni, i loro rappresentanti, i loro consigli collaborano e in qualche maniera si accordano tra di loro che sia una tipologia sportiva, un comitato di altro genere, i risultati avvengono. Cioè questo ne va dato atto e quindi siamo molto, ma molto felici. Un'attenzione particolare è stata quella del Rotary per quest'anno, prima per la Basilica di Sant'Ubaldo, ora per la Chiesa di Santa Croce della Foce, e dunque quei luoghi che sono testimonianza concreta della fede per gli augubini. Sono luoghi che sono testimonianza di fede, ma sono anche luoghi che sono profondamente radicati nel sentimento profondo della collettività. Sono veramente dei luoghi del cuore, no? In tutti i sensi. Non c'è bisogno di spiegarlo, gli augubini lo capiscono subito che cosa significano questi due luoghi. Il Rotary non poteva non essere presente ad una sollecitazione come questa, perché il senso della presenza rotariana all'interno della collettività è proprio questo, quello di supportare, di essere vicini, di dare quel contributo, anche piccolo, ma estremamente significativo, nell'ambito della collettività in cui il Rotary Club opera quotidianamente, credo anche mi sia consentito dirlo, con dei risultati importanti. Grazie a tutti.